Benvenuto in questo virtual tour. Ti mostro un bilocale arredato a Monza in zona San Gerardo. Ingresso su soggiorno con cucina a vista, zona soggiorno, porta di accesso al disimpegno e cucina, completamente arredato con elettrodomestici inclusi e porta che conduce alla camera da letto. Dal disimpegno si ha accesso al bagno dove troviamo i sanitari, lavandino con arredo bagno e doccia, completamente ristrutturata. Dalla zona giorno possiamo avere accesso diretto alla camera da letto dove troviamo un comò con i comodini, letto contenitore e ampia armadiatura con uscita sulla zona esterna. A questo appartamento si accede da una zona comune esterna attraversando una zona privata esterna che dà accesso alla porta finestra che conduce alla zona giorno con porta finestra e persiana. La seconda finestra che vediamo è quella della camera da letto e poi abbiamo una zona esterna direttamente anche dalla zona giorno che conduce su un minimo di esterno privato. Tutto l'arredo di cui è dotato l'appartamento è nuovo e completo degli elettrodomestici, tra cui la lavastoviglie e la lavatrice. Completano la locazione, antifurto e aria condizionata già inclusi. Ma in questo appartamento non manca veramente niente, infatti è dotato anche di box. Per maggiori informazioni su questo appartamento puoi visitare il sito www.desio.soloaffiti.it Se invece vuoi maggiori informazioni sulla cultura dell'affitto, allora visita il sito www.misteraffittibrianza.com Solo Affitti, affittare con sicurezza!